allora buonasera buonasera a tutti sono qui per parlare di una mia iniziativa di corsi anzi nello specifico di seminari si tratta di seminari teatrali di stage di una giornata che io ho denominato teatro lab sono dei laboratori teatrali fondamentalmente è uno studio di laboratorio è uno studio è l'organizzazione di un laboratorio più laboratori teatrali non sto parlando in questo caso di corsi non sto parlando in questo caso di cioè di corsi continuativi settimanali eccetera non sto parlando in questo caso di collaborazioni con associazioni culturali con scuole di teatro sto parlando di un'iniziativa mia privata che io sto lanciando privatamente sotto forma di seminario mensile e il cui primo seminario che sono riuscita ad organizzare in questo momento è in una zona ben precisa ed è a milano stiamo parlando quindi di seminari che avranno luogo in città diversi in questo momento milano mi piacerebbe lanciare teatro lab anche a bologna lancio questa cosa se qualcuno la volesse cogliere mi piacerebbe lanciare teatro lab anche a in altre zone anche a me più vicine come per esempio la zona di varese eccetera 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 comunque aggiornerò diciamo le location come si dice oggi i luoghi dove dove io riuscirò a organizzare questi seminari il primo è già fissato è a milano ed è il giorno 3 ottobre darò poi dettagli sulla splendida lo splendido luogo che ci accoglierà darò dettagli molto più precisi presenterò meglio il tutto più avanti questo video intanto vuole essere generico di tutta l'organizzazione di teatro lab cicli di seminari per esempio partiamo a milano e a milano avrà il suo ciclo poi mi piacerebbe farlo per esempio nella zona di varese e avrà i suoi appuntamenti che sia sempre lo stesso posto che si cambi di posto ma saranno sempre nella zona di varese e via dicendo questa è l'idea si parte a inizio ottobre o comunque in ottobre e si vorrebbe arrivare fino a giugno o quantomeno a maggio o comunque fino a quando si vorrà e fino a quando ci sarà richiesta poi molte cose non si sanno perché sapete bene che siamo in un periodo storico che non ha precedenti laddove anche organizzare il lavoro come per esempio il mio è abbastanza a carico di incognite perché non si sa se poi ci saranno degli altri lockdown se si sarà liberi non si sarà liberi di fare questo di fare quello ma nei limiti del possibile cerchiamo di prevedere queste cose perché questa scelta intanto è una è una la formula seminario libero seminario libero sottolineo cosa vuol dire seminario libero vuol dire che io posso come allievo partecipare a un solo seminario e poi non andare più ed è stata un'esperienza oppure posso andare una volta ogni tanto posso andare al seminario di ottobre poi magari voglio tornare a quello di marzo oppure posso partecipare anche a tutti i seminari che l'intento è quelli che siano a cadenza e quello che siano a cadenza mensile quindi è libero perché viviamo in un momento in cui gli adulti parliamo di corso per adulti gli adulti non hanno il tempo non hanno spesso la possibilità di seguire tutte le settimane un percorso oppure di impegnarsi per tanti mesi oppure di impegnarsi in una continuità e quindi ho pensato a tutte quelle persone che per un motivo per un altro preferiscono fare un seminario ogni tanto magari perché stanno facendo un altro percorso percorso di studio teatrale o magari perché la prima volta e vogliono approcciare questa cosa con una singola esperienza per la prima volta o per mille altri motivi io voglio dare questa opportunità che ho anch'io avuto come studentessa a mio tempo non per tutto il percorso di studio sul teatro ma per un periodo molto preciso io ho seguito questo tipo di modalità di studio e mi era piaciuta molto quindi teatro lab vuole essere questo seminari liberi di teatro tenuti da me quindi sono io l'insegnante farò degli altri video delle presentazioni specifiche su ogni singolo teatro lab la prima che farò sarà su quello di milano ogni seminario avrà ogni data un suo titolo un suo argomento e una sua atmosfera il primo seminario ha un costo promozionale lo faccio proprio per fare partire quindi minore rispetto al costo che proporrò successivamente quindi è scontato c'è uno sconto non esiste una lezione di prova dei seminari perché il seminario parte prende va è in presenza ovviamente parliamo di incontri in presenza seguendo e rispettando ovviamente tutte quelle che sono le regole che ci troviamo ad affrontare periodo dopo periodo per il discorso del del covid e lo sappiamo benissimo però io farò una presentazione online una diretta nel senso diretta ma solo con chi si prenoterà per spiegare presentare la partenza di ogni singolo luogo in questo caso la prima sarà su milano quindi tra una settimana dieci giorni quindici giorni tre settimane non lo so comunque con un certo anticipo rispetto alla data di inizio io così se ci saranno delle persone che si saranno prenotate ovviamente io farò una presentazione online in modo tale da poter spiegare meglio il tutto relativo proprio a quella data quel giorno quel seminario e quel luogo ecco chi volesse informazioni su teatro lab mi contatti quindi parliamo di seminari liberi che io voglio portare con sempre la mia metodologia di lavoro assolutamente aperta e viva e vivente pulsante dalle mie esperienze le mie esperienze di sperimentazione teatrale il mio lavorare sul teatro simbolico sul simbolismo sull'autenticità l'improvvisazione teatrale la musica ci sarà tantissima musica l'uso della voce il corpo saranno dei lavori molto creativi ma ogni singolo incontro sarà su una su un argomento ben preciso e qui mi fermo quindi questa presentazione non vuole essere una spiegazione dettagliata né del primo incontro su milano né di ogni incontro di teatro lab di partenza sarebbe una cosa lunghissima quello lo farò a parte con chi sarà interessato poi farò anche un altro video spot breve proprio sulla partenza di milano a breve grazie e chi volesse informazioni su questi stage liberi teatrali per adulti io sono qua anche per parlare in modo molto più specifico delle mie metodologie didattiche e i miei obiettivi grazie